Ok, andiamo avanti. Questo libro è per chi vuole uscire dall'omosessualità. Spiega le cause dell'attrazione allo stesso sesso, i significati, e quattro aspetti della guarigione. E io adesso entrerò in questo. Poi il prossimo libro, questo è Figli omosessuali genitori etero. Questo è per persone che hanno amati con l'omosessualità. Soprattutto quelli che vogliono vivere una vita omosessuale. E parla di dodici tappe per aiutarti ad addempiere la tua vita omosessualità. La vera identità di genere ad acquistare. Quindi per rispondere alla tua domanda, tante persone hanno usato questo programma e hanno aiutato tanti che erano identificati con il mondo gay uscirne. Anche se non volevano cambiare. E la prossima slide. Questo è un addestramento per i counsellors. E lo do ai terapisti e ai ministri delle chiese. Questo è parlare dritto sull'omosessualità. Questo parla di perché il movimento gay è così potente e perché è cresciuto così tanto. E alla fine parla di come ognuno di noi può amare queste persone per farli entrare nella loro vera identità sessuale. E poi? Niente. Questo è un altro. Quindi ci sono tre punti che voglio condividere con voi. Se potete alzarvi un attimo. Fate un po' di stretching.